I provvedimenti per la difesa anti gas continuano ad essere all'ordine del giorno in Inghilterra. La volenterosa collaborazione dei vati porta talvolta a buffi risultati come questo. Una carrozzetta per lattanti equipaggiata di tutto punto per essere impermeabile ai gas, ma in verità un poco funebre all'aspetto. Grazie a tutti.